Assessore Valdo di Buonaventura, parte il piano di adozione delle rotonde e degli spazi verdi? Sì, è un modo per cercare di tenere in ordine il nostro patrimonio degli spazi verdi e delle rotonde. Purtroppo l'amministrazione sa benissimo, le risorse sono ridotte al lumicino, quindi è un modo per cercare di dare risposte a avere degli spazi verdi decorosi. Quindi porteremo a breve questo approvimento di questa delibera, proprio di questo provvedimento, per cercare di far sì che sia qualche privato sia i cittadini possano adottare questi spazi verdi e tenerli curati e così andiamo a migliorare il decoro urbano della città. Fattivamente come si espleterà? Ci sarà un bando, una gara, qualcosa? Beh sì, adesso facciamo il provvedimento, poi chi vuole partecipare farà una domanda, la valuteremo e poi daremo risposta. Qualsiasi rotonda? Sì, qualsiasi rotonda, ma adesso è in cura dal comune, cercando di migliorare il decoro, lo fanno già in diverse regioni italiane, è un modo per cercare, visto le difficoltà economiche, e quindi è un impegno di questa amministrazione, ma io sono convinto che sarà una buona risposta da parte dei cittadini, perché sono tanti quelli, i cittadini, che vogliono adoperarsi per migliorare l'aspetto manutentivo della loro città. Quanto riguarda l'Erae Verdi, continua anche la lotta per il decoro urbano? Purtroppo c'è un abbandono dei rifiuti, inutico lo diciamo, sconsiderato. Insomma, si è arrivato ieri mattina, abbiamo recuperato quel carrello sul fiume, ma oramai ci sono dei comportamenti inaccettabili e dobbiamo combattere in tutti i modi, speriamo che l'installazione di Fototrap dia qualche risultato per cercare di reprimere in qualche modo questo triste fenomeno.